Partiti! E' in vantaggio Matrimandir davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. All'inizio della prima curva cavalli in fila indiana con Matrimandir in vantaggio davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. E' in vantaggio Matrimandir davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. Al termine della prima curva, posizioni invariate con Matrimandir in vantaggio davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. Prosegue in vantaggio Matrimandir davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. Dopo mille metri di corsa, è sempre in vantaggio Matrimandir davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. All'inizio della seconda curva, prosegue in vantaggio Matrimandir davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. Poco prima dell'ingresso di corsa, è in vantaggio Matrimandir davanti a Overpunch, San Vicenzo e Windfinder. I cavalli entrano in dirittura con Matrimandir in vantaggio lungo la corda davanti a San Vicenzo, Windfinder ed Overpunch. Prosegue in vantaggio Matrimandir, è sempre in vantaggio Matrimandir attaccato all'esterno da San Vicenzo, passa San Vicenzo davanti a Matrimandir, più staccati Windfinder ed Overpunch. Grazie. 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 Grazie a tutti.